salve questo che voglio presentare oggi è un esposimetro dei primi anni 70 l'esposimetro senza batterie con la sua cellula di fronte cellula questa qua che è un po decaduta perché non segna più la luce esatta ecco questa specie di saracinesca a parte chiudere il galvanometro serve anche messo su questi fermi qui per la lettura della luce diciamo luce forte l'indicatore ha soltanto 12 12 punti e riportando ad esempio in questo caso segnal 3 riportando in questa piccola finestrella si ha la coppia tempo diaframma i tempi sono 500 250 150 25 quindi una scala usata negli anni sessanta e sotto ovviamente ci sono gli eframmi più i fotogrammi cinematografici ecco l'unica variante qua e poi aprirla tutta la seracinesca per scoprire tutta la cellula e quindi da un'altra indicazione in questo caso si mettono sul 4 e cambia con diaframma 4 un venticinquesimo 5 6 un decimo di secondo e via dicendo e via dicendo ecco la particolarità di questo esposimetro è questo questo color finder qui si hanno chiamolo dritto si hanno due scale diciamo una tutta identica l'altra a pezzettini questo serviva per avere poi quello che oggigiorno viene utilizzato come bilanciamento del bianco all'epoca si poteva avere pellicole per luce artificiale o per luce diurna in questo caso si parificano come colore che sia in corrispondenza una lettera per sapere qual è la temperatura della luce temperatura in gradi kelvin purtroppo questo qui non ha più il suo bugiardino sotto per cui sono riuscito girando su internet a trovarne uno ecco in questo caso si può vedere che conferma luce diurna a seconda e se era la a la b in questo caso è la luce diurna si deve usare un b 18 sono filtri ambra o azzurri se fosse stato un film a luce artificiale avrei dovuto usare un b 6 in questo caso qui della luce artificiale valore b o luce diurna col di quindi si presume che il di fosse sui 5600 kelvin mentre per la luce artificiale 3400 gradi kelvin per cui non c'era necessità di utilizzare un filtro ecco questo è uno degli aggeggi termocolorimetro un po spartano eccolo qui sono riuscito a richiuderlo oggetto che ho trovato e che avevo utilizzato negli anni molto passati ecco questo è il giocattolino recuperato dagli anni 60 70 grazie della visione è un prossimo apparecchio